Non assentate ancora. Quando sei pronta tu, Ilari? No, io sono proprio apparecchiata. Ok, pronti? 3, 2, 1, via! Vediamo se vince la parola! Non è possibile! Però aspettate ragazzi, qualcosa è caduto, eh! No, vabbè, scusate, Massimiliano, Massimiliano, mi devi dire chi le ha appese le mele. Ma chi le ha appese queste mele, sono cascate tutte. Lui sicuramente. Non sono mele, sono pasto a frolla. Allora, devo ammettere che secondo me hanno vinto Ignazio e Valentina. No, ma anche loro un secondo fa sì. Dove è primo? Ok. Ma come? Io non ho visto niente, scusate. Ho una creazione, ma... E' un ralenti, abbiamo una cosa. Io vorrei ripetere, Ilari. Io lo vorrei ripetere, ma si può fare? Una notte tutte e quattro insieme. Una notte tutti insieme! No, perché ancora... Allora, facciamo così, siccome non si può rifare, perché bisognerebbe riposizionare la mela così, ogni coppia ha vinto una notte sotto al cielo stellato, via. Brava! Una notte sul materasso per tutti, ok? Grazie. 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 Grazie a tutti